A questo punto c'è un premio per la migliore colonna sonora, Max Nardari, Diversamente. Miglior colonna sonora e noi in realtà dietro le quinte stavamo ballando se la regia... Ecco, e noi ballavamo perché ci divertiamo anche noi. Abbiamo nuovamente in collegamento con noi Max Nardari, regista del film Diversamente, perché ha vinto il premio come colonna sonora il pezzo Tonight, ovvero il pezzo di Diversamente. Max, complimenti! Sono qui con mia madre, Renée Arocchino, che ci sta salutando a poca voce e quindi lei vi saluta col pollice. Divertente questo viaggio che facciamo tra le stelle, uniti, ed è un pezzo pop dance che ho creato apposta per la colonna sonora del film Diversamente, di cui sono felicissima di ricevere questo premio, perché sono anni che io appunto sono autore di musiche, che ho scritto per Raff e tanti altri, però poi avevo smesso di fare musica perché mi sono dedicato al cinema, chiaramente. Cosa è successo? Che poi, complice alla pandemia, ho deciso di tornare a fare musica per collaborare anche con altri artisti, come Francesco Arpino, con cui ho, per esempio, fatto il disco, perché anche Francesco è stato anche il producer, e l'arrangiatore di questi brani, un progetto pop dance. Tonight e un'altra che si chiama Inidio, sono due brani che ho trovato su Diversamente e anche su tutti gli stores, per cui sono veramente contento. Anonima Disegni sono tra i primi, appunto, gli effetti speciali, YFX, sono dei creativi che hanno fatto questo video veramente pazzesco in animazione, dove io volo in mezzo a una galassia, alla ricerca di un posto migliore, anche perché vorremmo tutti un po' scappare, no? Vorremmo andare su un altro pianeta, per poi però ritrovarci gli stessi problemi, quindi alla fine il video finisce con tutte le locandine mie, con tutti i film, le cose che ho fatto, ed è una cosa ovviamente molto ironica per raccontare questo periodo che stiamo vivendo, in cui dobbiamo un po' anche trovare noi stessi. Per cui ho coinvolto mamma e ho voluto fare questo omaggio a lei, che ha sempre creduto in me, e che è sempre stata al mio fianco, ha creduto in me come artista, vero mamma? E' qui che mi è felice. E quindi questo premio per me è molto importante, tra l'altro so che ci hanno seguito prima Paolo Conticini, la dottoressa Grimaldi che saluto, e poi tutto il cast del film, con tutti gli attori insomma del film, diversamente che abbiamo già ringraziato da Fiorita Mari eccetera, però in particolare ora che si parla di musica, per me è molto importante in questo momento vincere questo premio, perché appunto sono tornato, ma anche come cantante, è una cosa un po' singolare, no? Fare musica... Ma guarda, Max ti posso dire una cosa, vedendo il video, a parte che all'inizio ho avuto un flashback su Superclassifica Show e Maurizio Seimanti, ma poi dopo le immagini mi hanno riportato alla mente i Daft Punk, penso che come confronto più a bello, no? Che dici? Wow, i Daft Punk li adoro, sì sì è vero, quel genere di musica, quel pop dance funky, è pieno di brio, allegria, è questo tipo di musica che voglio fare, un po' perché anche fatti con me, e siccome la vita è difficile bisogna alleggerirla, il brano, sono contento che mi piaccia, l'avete ballato veramente? Sì sì, e ti dirò una cosa, Max, secondo me, che un po' di radio ne ho fatto, quando non fai film, non stai con le telecamere, puoi andare anche in discoteca che a breve riapriranno, insomma, quindi puoi fare quello e quello, eh? Portateli, perché non è facile, eh, lanciarsi non più ragazzini con questo progetto, mi amavo, e fa così. Non è sempre... No, noi la salutiamo perché ancora non avevamo avuto il piacere di salutarla, come si chiama? Renea, pensa che mamma è una donna che come avvocato, adesso è in pensione, si è ricreata a 50 anni diventando il primo avvocato della Sacrarote in Italia, adesso è in pensione per cui ha poca voce, eccetera, però lei è un esempio perché a 50 anni rimettersi in gioco e diventare la prima donna avvocata in Italia non è stata assolutamente semplice negli anni 90 quando nessuno credeva nelle donne, diciamo che è stato un esempio. E quindi, insomma, ho un esempio in famiglia che ti dice proprio non è mai tardi nella vita. Woman power! Woman power sempre! Complimenti! Complimentissimi! Noi allora lo vediamo! Max, tu sei il vincitore veramente assoluto di questa serata, possiamo dire. Grazie! Allora spero di venire a trovarvi dal vivo molto presto. Magari, magari! Veramente ci farebbe tantissimo piacere, ma non temere perché quando torneremo finalmente in presenza sarà il primo che telefoneremo. Grazie, grazie mille! Viva diversamente e viva voi! Ragazzi, a prestissimo con il videoclip, guardatelo su YouTube perché il video, insomma, è sul mio canale YouTube, iscrivetevi che mi fa piacere, adesso che mi sto rilanciando con la musica. Bravo! Bravissimo! Ciao Max! Ciao! Ciao alla tua mamma! Ciao! 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 !